Blue Monday, quanto c'è di vero? Beh, di vero non c'è molto. Sarebbe il giorno più triste dell'anno, secondo uno psicologo Cliff Arnal dell'Università di Cardiff, però il suo lavoro è stato sbugiardato dalla sua stessa università. Calcolato con una complicata equazione, il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, è preso molto sul serio in Inghilterra, paese d'origine del suo ideatore Cliff Arnal, psicologo dell'Università di Cardiff. Nel 2005 Arnal avrebbe infatti dichiarato di aver individuato la data del Blue Monday, che ricade il terzo mercoledì del mese di gennaio, attraverso una complicata equazione che prende in esame variabili come il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi a Natale, il calo motivazionale dopo le feste e altri fattori. Ma l'equazione creata da Arnal in realtà non è frutto della sua sola immaginazione. Lo pseudo psicologo l'ha inventata infatti per un sito di viaggi con l'intenzione di utilizzarla come campagna pubblicitaria. Quale miglior modo infatti di scappare dalle preoccupazioni se non un bel viaggio? Nonostante la bufala sia stata smentita più volte e la stessa università abbia preso le distanze dello studioso, il Blue Monday è ormai entrato a far parte dell'immaginario collettivo. È diventata una moda, una rappresentazione sociale, una credenza, alla quale si è agganciato il pensiero magico delle persone. Adesso abbiamo un sacco di gente che aspetta questo giorno forse sentendosi anche più triste e che poi si sente però sollevata quando questo giorno è passato e ha scongiurato un po' il pericolo. Mentre la realtà è che la meteoropatia esiste dal punto di vista funzionale, non il Blue Monday. Esiste lo stress, esiste la difficoltà che noi abbiamo nel gestire i cambiamenti in generale. Mettendo dunque da parte improbabili equazioni per combattere i cali d'umore, i consigli azzeccati a volte sono quelli più semplici. Mangiare in modo sano, salutare, nell'ottica della psicologia della salute, fare sport, avere una vita piena di interessi, senza cadere troppo nella superstizione del giorno fortunato e del giorno sfortunato.